Non ho capito E devi scegliere da basket Allora come a basket, chi scegli tu, inizia tu Allora io sceglierò Feri Ok Non si capiva se dicevi feri o strecato Non ho capito infatti esatto Feri strecato non è Io rimango sicuro per ultimo palese Non è vero perché io scelgo te Paga per primo Allora sono ultimo io Ok tocca a me Sì tocca a te Rischi che ti blocco su whatsapp Ok no approcciate Una brutta No no allora questo metodo Annullato potrebbe creare L'amicizia è meglio di no Poteva rovinare Perché se sceglievo Alex Cico mi rimuoveva da whatsapp Se sceglievo Cico Alex Mi rimuoveva da whatsapp E me ne andavo pure Non si può fare Allora cambiamo Rimettetevi in fila tutti Anche Anna Ok Anch'io Sì Scusa paga eri carino ma È finita così Poverino Ok Allora 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 Decido di fare diversamente Sceglierò io entrambe le squadre Aiutato dalla chat Allora una squadra La prima squadra Che è di tre oltre me Sarà composta da Cico rulla i tamburi un po' Oh 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 I tamburi I tamburi Paga Alex so che può far male Ma ti spiego perché Ma ci verrà dopo Ti spiego perché Perché io cosa ho fatto Ho diviso La deficienza In parti uguali No vabbè Questo è offensivo Non ho capito Noi siamo alla metà migliore Però No siete uguale All'altra Perché cosa ho fatto io Paga è un po' stupido Anche se è carino Quindi l'ho messo qui È vero Però per bilanciare Ho messo Anna Poi Cico a volte è stupido Ma a volte no Quindi è un po' un jolly Quindi l'ho messo Poi dall'altra parte Cosa ho fatto C'è Feri che È un po' un paga Ok Allora aspetta Io non ho mai giocato a Roma Quindi ci sta Che io mi sia capace Io sono vecchio però Saremo un'ottima squadra Poi cosa ho fatto Anche qui Un jolly Che è strecato Che a volte è un imbecile A volte no Quindi ho detto bilancio Sono contento E Alex invece È valido È valido Di solito Che cosa facciamo Noi aspettiamo in un'altra stanza